Siamo Mia, Emma, Lucy e Sofì e viaggiamo intorno a tutto il mondo! Siamo le Trottis Trottis! Trottis Trottis i provis! Lo so, un po' di pazienza, ogni artista ha bisogno del suo tempo. Vi piace di più, vero? Sono sicura che oggi mi sceglieranno per la mostra di flauto, che emozione! Scusate, scusate, posso migliorare? Il trucco sta nel suonare con il cuore! Emily, sei pronta? Partiamo tra due minuti! Ora devo andare, poi vi racconto com'è andata, ciao! Spero che Emily impari presto a suonare con il cuore e se la cavi bene, perché ha un modo davvero strano di suonare adesso! Sta succedendo qualcosa in Spagna! Il segnale viene da Madrid, la capitale! Hola, Trottis, come state? Qui a Madrid sta succedendo qualcosa di molto strano! Tutto è al contrario, le statue, i lampioni, fino ai fiori! Potete venire ad aiutarmi, per favore! Dobbiamo andare a Madrid ad aiutare la nostra amica! Allora basta parlare! Let's go to Spain! Comunque, il dovuto sarà! Piki Promise ci guiderà! Questo sembra molto buono! Oh la la! Com'è bella questa piazza! Sicuramente qui vicino possiamo andare a fare shopping! Ragazzi, ragazzi, non siamo venute né per mangiare né per comprare vestiti! Siamo a Puerta del Soled, la piazza più famosa di Madrid! Di solito è piena di gente, ma non c'è nessuno e come ci ha detto Lola, è tutto sottosopra! Cosa è successo? Oh, che paura! Ma se la piazza è vuota, chi ha suonato la campana? Aiutatemi! Ha bisogno di aiuto! Chi sta facendo tutto questo casino? Hmm, credo di saperlo! È un elfo! Già, ed è davvero molto, molto veloce! Quasi quanto me, direi! Ragazzi, stavo cercando sul mio tablet e ho trovato un posto dove l'elfo non ci disturberà e potremo trovare una soluzione! Questa è la fontana di Cibela! È very pretty! Sì, e da queste parti l'elfo non si fa vedere perché ha paura dei leoni! Non capisco perché non gli piacciono, sono così carini! Qui si dice che gli alfi sono esseri innocui e amano fare scherzi, ma quando ridono molto non possono stare fermi e capovolgono tutto. C'è solo una cosa che può calmarli e farli tornare a casa loro nella foresta incantata, la melodia del flauto magico! E dove possiamo trovare questo flauto? Il flauto magico dovrebbe trovarsi nella foresta incantata! L'hai trovato! Brava! Sì, è molto carina, ma chi sa suonare il flauto? Beh, basta farlo con il cuore! È al Museo del Prado! Questo è il quadro più importante delle meninas di Velázquez! Adesso che il folletto è nella sua casetta possiamo dire missione compiuta! Sì, bene! Ragazze, volete che vi suoni una canzone con il flauto? Che strano! Papà, hai messo tu le mie bambole al contrario! Siamo le Trottis! Trottis, Trottis! Trottis, Trottis! Pinky Trottis! Siamo... Mia! Emma! Lucy! E Sophie! E viaggiamo interno a tutto il mondo! Siamo le... Trottis, Trottis! Trottis, Trottis! Pinky Provis! E adesso della cioccolata calda per ognuna! State attente che brucia! Emily, se non ti sbrighi non arriviamo dalla mamma in aeroporto! Andiamo! Arrivo, papà! Godetevela, ragazza! Ci vediamo dopo! La mappa magica! Londra! Oh no! Il Big Ben è impazzito! Non capisco! Che cos'è il Big Ben, Lucy? Il Big Ben è un orologio molto importante a Londra! È uno dei più grandi orologi del mondo! E se smettesse di funzionare potrebbe fare una gran confusione in città! Oh! Bene! Ecco qui le valigie, ok? Che stiamo aspettando? Andiamo! Un po' di pazienza, Emma! Non si possono fare le valigie così velocemente! Il mio shampoo ai frutti rossi! Non posso viaggiare senza! Torno subito! Ci siamo tutte! Comunque, dovunque sarà, Pinky Promise ci guiderà! Energia ritrovata! A proposito, che bel parco! Sì, si chiama Hyde Park! È molto bello! Sai, Emma, si dice che qua vengano le fate a raccogliere il nettare dai fiori! Dobbiamo andare al Big Ben! Non c'è tempo da perdere! Mia, andiamo! Non sei una fata! Credo proprio che non riescano a capirsi! Una vorrebbe che fosse giorno e l'altra che fosse notte! Non può essere! Mi vedo in bianco e nero! Dov'è la mia brunzatura? Aspetta un minuto! Posso aggiustarlo! Voilà! Che vuole dire? Ecco qui! Sophie, non hai fatto niente di male! Quello che sta succedendo è che questa freccia è magica e ha bisogno di una speciale polvere di fata che è nascosta da qualche parte a Londra! Le fate sono molto dispiaciute e vorrebbero aiutarci, ma non sanno come trovarla! Dicono che mancano soltanto sette minuti per farlo, altrimenti l'orologio si fermerà per sempre! Oh no! Da qui mi collegherò con il cerca magia! Ce l'abbiamo! È ai piedi del London Eye, la ruota panoramica più grande d'Europa! Qui ci dice come arrivarci! Emma! Eccola qui! La polvere di fata! Grazie, Emma! Ora tocca a me! Tu riposati! Abbiamo solo un minuto! Yeah! Dobbiamo andare, Emily! Ritornerà a casa presto! Un'altra volta senza poter provare la cioccolata! Ciao ragazze! Avete già mangiato la cioccolata calda? Ora posso mettere via tutto! Ma Emma, ti sei attaccata alla tazza! Siamo le Trottis! 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 Pinky Troy! Trottis! 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 learning,